Benvenuti alla nuova puntata della vostra opinione conta. Oggi ci occuperemo della sindrome della rondine. Ne parleremo con il professor Antonio De Iara di Sassari. Allora professore, lei ha cognato una nuova sindrome, la sindrome della rondine, ovvero il fatto che i genitori si scaglino contro i docenti e li maltrattino. Come mai questo modo di definire la sindrome? L'idea è nata dal fatto che la rondine predispone il cibo per i suoi piccoli e li cura con particolare attenzione. Ovviamente c'è anche un riferimento a Pascoli e a un certo punto mi sono reso conto che questo preparare il cibo andava oltre e molti genitori cercavano di difendere i figli in tutte le circostanze, soprattutto quando hanno torto, arrecando un gravissimo danno educativo. E da qui appunto la sindrome della rondine. Lei che cosa insegna professore e da quanto tempo insegna? Ci può raccontare qualcuna delle sue avventure scolastiche? Certamente, insegno da 41 anni, questo è il mio quarantunesimo anno di insegnamento della musica nelle scuole di ogni ordine grado. Ho lavorato anche quattro anni in conservatorio come supervisore al bienio a formazione docenti. Diciamo che in prima persona non ho avuto gravi contrasti, ma sono testimone, in quanto collaboro da dieci anni con tutti i colleghi della Sardegna di Strumento Musicale e Musica, sono testimone di racconti, di scontri abbastanza duri che portano sempre al problema educativo, in quanto i ragazzi poi si sentono autorizzati a comportarsi in qualunque maniera e soprattutto si sentono autorizzati ad essere impuniti. Professore, mi può dire qualche esperienza concreta in cui i docenti sono stati malmenati o minacciati da genitori? Un episodio è capitato ai miei colleghi, una volta è arrivato a scuola un genitore completamente ubriaco che per un richiamo ad una delle figlie, a un figlio, ha addirittura minacciato i colleghi di picchiarli, diciamolo esplicitamente. Quindi questo è stato un momento molto difficile e grazie alla presenza e al sangue freddo di uno dei colleghi di educazione fisica la questione si risolta bene, ma ripeto, sarebbe potuta finire molto peggio. Il secondo episodio mi riguarda personalmente un'aggressione verbale che abbiamo subito, sia io sia i collaboratori, i colleghi che c'erano in quel momento, perché di fronte a una procedura Covid un genitore riteneva che noi non fossimo qualificati per capire queste cose e quindi il figlio dovesse restare a scuola. Detto fra noi, aveva ragione dal punto di vista scientifico, perché noi non siamo laureati in medicina, non siamo medici, non siamo infermieri, però in quel momento dovevamo applicare una procedura che c'era stata indicata. Quindi c'è sempre questo voler colpire chi mette la faccia, tra virgolette, di fronte al pubblico e questo è altamente diseducativo. Secondo lei, perché la scuola ha perso tanto prestigio? Perché i docenti ormai non vengono più stimati come una volta? Cosa è successo nel corso degli ultimi 30 anni, 20 anni? In primo luogo è stato messo in dubbio il valore dell'insegnamento, cioè ciò che diceva il maestro un tempo era sacro, oggi esistono i laureati di Google, i laureati di Wikipedia che credono di rispondere alle domande con il bignamino, diremmo noi, che abbiamo studiato un po' di anni fa, insomma. E poi soprattutto la certezza di essere impuniti, quindi la promozione e anche i provvedimenti disciplinari non hanno nessun peso perché alla fine la questione si chiude a tarallucci e vino, come si suol dire. Oltre al discredito sociale, perché gli insegnanti sono giudicati pelandroni, eccetera, eccetera, c'è tutto il repertorio, insomma. A suo parere, come si corregge questa situazione? Occorrono tre tipi di intervento. Il primo intervento deve essere quello che ristabilisce il fatto che il comportamento incide sul risultato di fine anno, altrimenti da questo punto di vista non riusciamo a ottenere nessun risultato. In secondo luogo bisogna modificare la funzione docente, cioè proporre ai docenti che vorranno farlo le 36 ore settimanali, invariato all'orario di cattedra, con ferie come gli altri lavoratori. Allora la casalinga di Voghera non dirà più che siamo i soliti statali privilegiati, con tre mesi di ferie, che lavorano 18 ore alla settimana. Quindi queste prime due azioni sono fondamentali. E poi naturalmente per chi accetterà questa soluzione si avrà uno stipendio di livello europeo che ridarà prestigio sociale alla funzione docente. I suoi colleghi non credo che condividano le sue posizioni. Comunque, certo, è una possibilità di uscita, è una possibilità anche di recupero di quello che appunto è il prestigio dell'insegnante. Professor Deiara, lei insegna musica nella scuola media e nella scuola primaria, nel Sardegna, a Sassari. Quindi lei è stata sempre in presenza perché la zona, la Sardegna è stata sempre in zona gialla e quindi non c'è stato problema per la scuola media. Qual è stata la sua esperienza in questo periodo di Covid come insegnante di musica? Ha trovato delle difficoltà? Le cose sono andate bene? Ci sono stati dei problemi? Io la ringrazio perché la sua domanda è molto importante. Non si può fare musica, con la didattica a distanza. Questo deve essere chiaro. Possiamo porre in essere dei surrogati della musica, ma il lavoro di insegnamento con l'uso dello strumento diventa un intervento di tipo personale sullo studente e quindi bisogna essere in presenza. Salutiamo il professore Deiara e lo ringraziamo per il suo gentile intervento e ricordo a tutti coloro che vogliono partecipare a questa rubrica La vostra opinione conta di inviare una mail a i lettori ci scrivono chiocciolatecnica della scuola.it indicando l'argomento che desiderano trattare. Arrivederci alla prossima volta. Grazie a tutti.